Attenzione però perché vorrei far sorridere un po' il nostro Tomas Fierro e chiedo a tal proposito alla nostra regia di cambiare il nostro titolo all'interno del quale si parla effettivamente di sorrisi, grandi sorrisoni Inter, un pari che fa sorridere ma dunque è all'altezza delle big europee? Cioè tu ieri hai visto un Inter sebbene poi alla fine hai fatto uno 0-0 ma in che modo? Certo Che possa veramente puntare a Bira il titolo? Guarda, quello visto l'intervista ieri sera ti dico di sì perché quando vai in casa del Manchester City e te la giochi perlomeno tieni il passo del Manchester allora a quel punto anche la squadra prende consapevolezza di essere una squadra competitiva perché se vai a giocare con una delle squadre più forti d'Europa vai sul loro campo, con lo stadio a favore, tutto quello che vuoi una squadra molto forte te la giochi e quindi hai sofferto un pochino però te la sei giocata quindi se tu arrivi con la tua mentalità a capire che se sei riuscito a fare uno 0-0 e potevi anche vincerla in un certo punto riesci a fare queste partite qua allora a quel punto... scusami Thomas ci interrompo un secondo perché Federico devi entrare a gamba tesa calcio di punizione da posizione pericolosa per l'Arsenal il fallo di Ederson che infatti è stato anche ammonito su Kai Havertz e ora punizione per i Gunners con Sacca sul pallone posizione insomma pericolosa sicuramente invitante c'è anche Reiss che si avvicina ma credo che andrà Sacca con il sinistro al minuto 13 vediamo insomma calcio piazzato che può essere pericoloso un po' ingenua l'Atalanta si è fatta sorprendere nel giro palla dell'Arsenal Ederson è stato costretto a un fallo e ha un giallo che può pesare nel corso della partita vediamo il calcio di punizione forse va Reiss oppure no Saccava lui va di potenza Carne Secchi grande parata di Carne Secchi che poi manda la palla in angolo ossia una doppia parata perché Carne Secchi non riesce a bloccare il pallone che era molto forte di Saccava c'è un rimbalzo proprio davanti la prende con la mano fa una grandissima parata e poi ha il riflesso di andare a chiudere sulla ribattuta perché stava arrivando in maniera molto pericolosa Thomas Partey e infatti mani nei cappelli per Arteta occasione molto grossa per l'Arsenal non è angolo perché sulla parata la seconda di Carne Secchi l'ultimo tocco è proprio di Thomas Partey quindi brivido ma si resta 0-0 Attenzione secondo brivido nell'arco di 13 minuti Federico Sì si ha cominciato meglio l'Arsenal questa partita va detto no volevo fare una battuta ma forse è passata no se invece di Thomas Partey ci fosse stato? Thomas Fierro Thomas Fierro è portiere però e vabbè però travestito da Partey no dico una cosa sull'Inter ma ragazzi la domanda è ma c'era bisogno della gara di ieri per avere la consapevolezza che l'Inter e il suo allenatore sono nel top ranking d'Europa hanno fatto una finale di Champions però sono passati due anni non dieci anni fa sì vabbè però la squadra è quella l'allenatore è quello anzi si è evoluta però Paolo sai c'è un conto che era la finale la finale te la giochi puoi giocarla bene così qui sei a Manchester stai giocando a Manchester quindi stai giocando con la formazione più forte del mondo forse in questo momento questa partita può dare solo che fiducia all'Inter assolutamente perché facendo una partita del genere ora sono tutti consapevoli che te la puoi giocare con tutti assolutamente quindi puoi arrivare fino in fondo te lo dico da milanista io ieri sera ho visto una partita eccezionale c'hai tanto di capello assolutamente però ho visto una bella Inter cioè io se fossi un tifoso dell'Inter sarei orgoglioso di questi ragazzi si è organizzata no Paolo vero molto organizzata nel campo sì poi è ovvio che negli ultimi 20 minuti si è difesa tanto però ha avuto un'occasione clamorosa con darmi anche io non so neanche cosa gli ha preso lui ha detto che gliel'ha chiamata Barrella luce davanti alla porta le Barrella chiama sempre anche il giocatore di seconda categoria quando è dentro l'area col portiere tira cosa è facile ha detto cosa ha avuto paura di calciare gli ha detto proprio questo però io dico una cosa cioè secondo me l'Inter cioè la forza dell'Inter il percorso dell'Inter è troppo poco fra virgoletto è celebrato in Italia perché ha un allenatore poco celebrato cioè voglio dire molti opinionisti molti giornalisti guarda anche post morte ma sportiva fra virgoletto e c'è ancora gente che va nelle trasmissioni la domenica a veicolare quanto era bravo Allegri che disastro è stato mandarlo via dopo i due pareggini di Tiago Motta cioè per dire invece Inzaghi viene sempre considerato come quello un po' ma per forza perché mediaticamente perché mediaticamente non è non è uno spaccone ecco allora a proposito ma benvenga vi faccio ascoltare le dichiarazioni proprio inerenti alla partita di Mr. Inzaghi ho fatto i complimenti i ragazzi sono stati giganteschi perché avevo chiesto una prova come abbiamo fatto insomma conosciamo tutti il Manchester City sappiamo i numeri quello che questa squadra ha fatto negli anni qui in casa nel Champions quindi dovevamo fare una grande partita e l'abbiamo fatta con con occasioni importanti perché quella di Carlos quella di Darmian e quella di Mkhitaryan sono sono occasioni importanti dove in una è stato bravissimo il portiere su Carlos e le altre potevamo essere potevamo essere più bravi però abbiamo lavorato insieme come è stato in questi tre anni e mezzo quando lavoriamo tutti insieme di squadra siamo un osso duro per tutti ecco effettivamente perdonami Thomas poi ovviamente riparto da te ma non ho ancora sentito Elena in merito può essere l'Inter questo osso duro di cui parla il suo allenatore? Guarda io trovo che l'Inter sia veramente una grande squadra compatta con un bravissimo allenatore che trovo molto pacato rispettoso e che ha toccato i punti giusti in conferenza perché a mio modo di vedere hanno giocato con la squadra più forte della Champions League del Manchester City li hanno tenuto ampiamente testa hanno anche rischiato di vincere quindi l'Inter ha dimostrato veramente di poter affrontare chiunque a testa alta e da italiana sono ben contenta che una squadra italiana si presenti in Champions League e faccia un tipo di partita del genere ecco a proposito di Champions attenzione terzo campanello d'allarme per la squadra di Gasperini esatto vittoria questa volta Martinelli quindi fin qui Averz Sacà e adesso Martinelli tutti gli attaccanti manca solo Gabriel Jesus ma hanno avuto un'occasione qui Martinelli si è trovato anche con un pizzico di fortuna una palla che gli è rimasta lì dopo un rimpallo la calciata per fortuna dell'Atalanta non bene la calciata alta però questo Arsenal molto offensivo davanti crea problemi cosa non sta funzionando secondo te? secondo me intanto la qualità dei giocatori dell'Arsenal va sottolineata questa è una squadra che non ha ancora vinto niente però sono ormai due anni che compete con il City fino all'ultima giornata quindi il livello è molto alto e quindi è una squadra difficile e poi mi sembra un'Atalanta un po' un po' bloccata cioè non mi sembra la solita Atalanta aggressiva anche fisicamente debordante mi sembra anche imprecisa vediamo adesso è vero che il campionato loro è già iniziato da quante giornate hanno fatto il più? come il nostro 4 giornate non è quello credo che la caratura Fede era partito così anche con la Fiorentina secondo me un po' spaisata senza persone infatti a Bergamo dicono che infatti le partenze sono molto lente la Fiorentina così uguale 15-20 minuti stanno subendo stavo facendo una valutazione però sulla densità centrocampo che mette l'Arsenal con l'Atalanta in difficoltà cioè adesso voglio dire gioca 4-3-3 poi non so se si bella 4-3-3 l'Atalanta stasera non lo so mi sembra che faccia fatica 4-3-2-1 3-4-1-2 3-4-2 3-4-2-3 diciamo che dietro giocano a 30 però in mezzo sono 4 quindi però la densità secondo me ecco Rice Party che non era previsto questo nell'Arsenal doveva giocare solo Giorginio dicevano quindi figurati invece non gioca Giorginio ha messo due giocatori molto più fisici di gamba di gamba certo perché no li vedi in difficoltà lì ecco poi eccoci eccoci Elena scusa ovviamente come della partita chiama dobbiamo rispondere eccoci aggiungo solo questo che Inzaghi ha avuto la fortuna di avere un dirigente come Marotta che l'ha spettato l'ha fatto crescere ed è cresciuto parallelamente alla squadra cosa che la Roma facendo un parallelo con l'argomento precedente non ha avuto il tempo di aspettare dei rossi perché se vi ricordate il primo anno in Zaghi era comunque sulla graticola per tutti i giornali ma Elena come gioca adesso i risultati che sta ottenendo contro l'altro lo scudetto quindi la società è fondamentale sì no però Elena forse mi tocca fare l'avvocato del diavolo il bastian contrario perché guarda che Marotta fino al mese di marzo fino a Barcellona che poi ha portato l'Inter ad un finale di stagione incredibile alla finale di Champions era il primo ad avere delle perplessità su Inzaghi però non l'ha allontanato e non l'ha allontanato perché Inzaghi ha fatto quel finale pazzesco dove la squadra l'ha seguito perché lui una settimana sia l'altra pure faceva riunioni tecniche a insomma chiamo la pinetina chiamata come vuoi insomma la pinetina sì sì la base la piante cioè era quasi commissariato Inzaghi e poi a livello informale uscivano spifferi volutamente uscivano sulle sulle perplessità sul livello di Inzaghi sul suo lavoro ecco vedo premere sia Max che Thomas perché nell'aprile marzo-aprile di quella stagione cioè era era praticamente un allenatore esonerato allora ragazzi attenzione perché si parla di turnover e effettivamente mister Inzaghi Thomas riparto da te ha applicato ben sette cambi rispetto a quello che abbiamo visto in campo col Monza molto bene molto bene ha cambiato i giocatori e hanno risposto alla grande e questo mi ha fatto veramente piacere soprattutto l'inserimento di Zelischi che finalmente lo voglio vedere a posto di Mkhitaryan sarà il futuro sarà lui e Bissek che l'abbiamo visto l'anno scorso ma in Champions League parte dall'inizio e fa una bella prestazione riesce a tenere Carlos Augusto a posto di Di Marco ha fatto una grande prestazione buttandosi anche in avanti e andando tante volte al tiro Taremi ha preso il posto di Lautaro ancora secondo me si deve svegliare un attimino perché ieri ha avuto una grande occasione su un grandissimo passaggio di Turam era uno contro uno a posto di puntare ha rallentato ha giocato la palla dietro un'altra cosa che ci deve segnalare Federico scusatemi ragazzi primo squillo Atalanta Charles De Ketelar va a calciare con il sinistro la palla non gira il dovuto poteva forse fare un pochino meglio però azione pericolosa l'idea c'era un tiro al giro faccia scera finalmente dopo mezz'ora di gioco abbiamo visto l'Atalanta essere pericolosa sta cominciando però ad andare su sta cominciando ad andare avanti assolutamente sì allora Elena si stava parlando Thomas ci stava spiegando il fattore cambio turnover quanto è importante il turnover considerando il calendario serrato soprattutto anche dell'Inter in Champions assolutamente sì l'Inter è quella che secondo me ha la panchina più qualitativa anche perché contiamo che c'è campionato Champions e mondiale per i club quindi sicuramente le partite saranno abbastanza infinite direi e qua un altro elogio a Dinzaghi perché è riuscito a fare un turnover intelligente quello che mi ha colpito sinceramente Frattesi in panchina perché me lo aspettavo in campo però probabilmente l'allenatore ha valutato che potrebbe essere un'arma in più per il derby Frattesi l'ha risparmiato come la vedi il fattore Frattesi di cui ci diceva Elena? io credo che lui debba avere pazienza perché è il futuro dell'Inter lui quindi piano piano è inutile mettere Zizzagna dove non si deve mettere ieri ha giocato a posto di Mkhitaryan ha giocato una grande partita secondo il mio punto di vista Zelischi perché a Monza avevo visto qualcosa di positivo e quindi anche l'allenatore se ne è accorto e quindi pian piano ruotano tutti poi è entrato gli ultimi dieci minuti Barella titolare si vede c'è la Nogulo e Barella ragazzi sono indispensabili in questa squadra Barella e Cervi hanno proprio un dato trascinato la squadra non è un problema perché avessimo noi questi problemi per l'amor di Dio però questo è stato il più grande acquisto dell'Inter dell'anno scorso sì Frattesi esatto quindi è un perno della Nazionale perché ha visto che il Nazionale gioca alla grandissima però secondo me ha poco spazio rispetto a quello che è il valore del giocatore secondo me adesso per il momento va tutto bene e allora va tutto bene faccio io per te ti fidi ti fidi non ha risponde Margitra c'è una ragione che non può essere liquidata con una roba buttata così perché non ufficialmente ma chi conosce il calcio di Simonin Zaghi o chi magari gli parla o riporta il suo pensiero cioè è forte tutto quello che vuoi è il miglior marcatore della Nazionale con Spalletti ma per quel tipo di calcio Frattesi non è ancora così abile così bravo per esempio come Mkhitaryan nel giocare sotto palla che però che ha 38 anni ma lui è molto bravo ad aggredire lo spazio e sente la porta infatti guarda che tiro che ha fatto ma per quel tipo di lavoro collettivo lui non ha quelle grosse capacità onestamente cioè quindi poi è chiaro io credo che forse l'anno scorso abbia giocato ancora meno del previsto perché Mkhitaryan ha fatto una stagione pazzesca nel senso che non ha sbagliato una varietà però con quell'età lì come dicevi tu entrava decisivo ma quando quando c'è un certo tipo di partita però diciamo per come gioca l'Inter per come muove la palla l'Inter per come lavora con e senza palla Frattesi tatticamente e se vuoi anche tecnicamente è un po' meno evoluto come tipo di giocatore c'è uno specialista di cose ma non è ancora molto molto completo come Centro Gambino sono d'accordo aggiungo anche che i dati sono abbastanza chiari quando subentra fa molto bene quando gioca dall'inizio finora insomma guardiamo Monza poi sai credo no nel gioco delle coppie di Inzaghi lui vede Barella Frattesi di qua Michi Tarianzilinski di là sinceramente togliere il posto a Barella io sono convinto che anche in nazionale noi abbiamo visto adesso benissimo Frattesi però non dimentichiamoci che Barella non c'era perché si era operato al naso quando c'è anche Barella non è che Frattesi sia titolare fisso anche in nazionale assolutamente sì no ma poi veramente cioè la parte tattica diciamo lui è un po' limitato fra virgolette cioè stride sentire dire che Frattesi è limitato però parliamo di un talk club di livello alto e di una macchina di inzaghi dell'Inter che funziona alla perfezione ecco secondo me lui ha un po' poche conoscenze comunque l'indice della qualità dell'Inter è che l'Inter ha fatto il turnover con Manchester City esatto capito questa è la cosa impressionante capito facendo una partita ma perché Paolo perché teoricamente dici forse ha fatto giocare quelli che stavano meglio beh sette ne ha presi sette ne ha presi sette ne ha presi ho capito però ha giocato Missek Carlos Augusto Missek per Pavarda Gielisti per Mkhitaryan attenzione Pavarda col Monza negativo perché a parte alcune giocate ha preso il gol in faccia Sì però Pavarda comunque un'azione francese va a giocare Manchester però l'Inter non ha fatto una buona partita però dicono l'Inter è stata tradita perché a Monza ha fatto il turnover la roba ha dato fastidio anche a Inzaghi perché visto che in un pezzo di dichiarazione dice non lega un certo giornale però se ci pensi quella partita lì due titolari avevano un po' tradito Pavarda con gli errori difensivi vabbè Lautaro che probabilmente lì era stato un po' debole in Inzaghi c'è questo debole per Lautaro che si era messo in campo però ieri ha avuto il coraggio di tenerlo fuori e Thuram Thuram è stato un fantasma a Monza quindi sai poi che è entrato cioè il brasiliano Carlos Augusto ha fatto bene poi gli altri insomma allora attenzione Max perché la riflessione che viene subito alla mente è la seguente il Milan in teoria ha giocato un giorno prima quindi dovrebbe essere più riposata per parlare di derby attenzione però il Milan non ha fatto il turnover di cui abbiamo parlato fino ad ora quindi tu rischi per assurdo che la squadra di Inzaghi arrivi più fresca a quella che sarà la partita record perché per ora si sfiora i 7 milioni di incasso e ricordiamo che il record fu il lotempore 6,6 milioni con Inter-Juventus del 2019 non è per metterti ansia ma è solo per farti migliorare con la situazione ma no parlava di 7 milioni non è che sia il settimo derby che perde quindi io di notte positive forse a parte il recupero di Magnan non ne vedo in questo momento nel Milan c'è una confusione totale non poteva arrivare al derby in un momento peggiore però potrebbe essere che in questo momento visto che stiamo rascando il barile potrebbe esserci una svolta che secondo me non credo che possa esserci comunque scampo dal punto di vista tecnico e vi faccio vedere anche ovviamente riferito anche a Elena riferito a Thomas a Paola a Federico la probabile formazione per il derby con 5 cambi rispetto a ieri quindi quando vi parlavo di turnover vi parlavo anche di forze fresche di energia nuova rispetto a quella che non ha in questo momento Fonseca oltre ad avere comunque per una panchina vi parlo di questo 3-5-2 allora Thomas un commento di questo 3-5-2 in vista di quello che sarà il derby di Milano eccola questa qua è la la formazione che ha vinto il 22 quando hai vinto in casa del Milan 2-1 la stessa formazione tipo e la formazione tipo riposerà Darmiana credo ci sia un ballottaggio giusto tra Dunfris e Darmiana e Darmiana sì ma penso che giocherà Dunfris è più fresco Di Marco vediamo un po' le sue condizioni se no sinceramente Carlos Augusto non mi dispiace perché sta giocando veramente ad alti livelli e poi lì poi dopo a partita in corso ci sarà da divertirsi perché l'Inter ha tanti cambi se Mkhitaryan non ce l'ha magari è un po' stanco può entrare Zelischi e tanti altri cambi quindi vedo un Inter in salute dopo una prestazione meravigliosa su un campo molto difficile quindi adesso è normale che arriva più diciamo avvantaggiato l'Inter che il Milan dopo la disfatta di martedì io credo che il Milan debba cambiare qualcosa perché se dovesse giocare con un 4-2-3-1 vedo un'altra un'altra batosta avremo anche modo e tempo di parlare di Milan vorrei concludere il ragionamento Inter con Elena perché Elena non ti ho ancora sentito su questo a proposito visto che si stava parlando di derby a Inzaghi è stata chiaramente anche posta una domanda in merito e lui per commentare la prestazione ieri di Champions ha detto serviva una grande partita l'abbiamo fatto il Milan con gare così ti prepari al meglio quindi comunque ha fatto ben intendere che il clima la voglia la grinta anche grazie alla prestazione di ieri con il Manchester c'è io credo che con partite del genere l'adrenalina e la voglia ci siano i giocatori indipendentemente dalla carica o quello che gli possa dire l'allenatore perché sono partite che qualsiasi giocatore vorrebbe giocare e cercare di dare il meglio poi visto che è andata non bene di più a Manchester City sicuramente saranno ancora più carichi vedo male il Milan come ha detto Massimiliano prima non vedo note positive mi dispiace Max soprattutto per la situazione panchina in questo momento no no ripeto la situazione è un po' kafchiana cioè non si sa se cambiarlo prima se cambiarlo dopo cioè mi sembra che in questo momento il Milan sia un po' una vittima sacrificale però il calcio è strano ricordo tutto possibile ricordo qualche anno fa se magari Fede mi conferma magari mi ricordo male che Terim in una situazione un po' del genere abbiamo giocato un derby l'abbiamo vinto l'abbiamo vinto poi dopo è stato esonerato lo stesso è esonerato lo stesso però magari in questo momento storico ti correggo solo su una cosa non era una situazione simile a questa era molto migliore ecco onestamente questa è una situazione di vera crisi quella era una situazione che non soddisfaceva in pieno la crisi era solo tecnica e non globale perché qua c'è una crisi globale anche societaria quindi non è solamente una crisi tecnica allora da quello che mi risulta cioè il Milan sostanzialmente avrebbe già deciso di esonerare Fonseca a prescindere no nel senso che poi è ovvio che l'emotività nel calcio ti può far spostare delle cose cioè nel senso che vinci trionfi nel derby eccetera vanno avanti però per esempio vicino al Milan ci sono non da parte del Milan ma da parte di certi operatori di mercato cioè nel senso a parte che era lo stadio ma una telefonata a Terzic l'ex allenatore del Borussia Dortmund sembra sia stata fatta mentre non è stata fatta almeno fino a prima di venire in onda poi che avevo provato a verificare a Sarri che comunque è prontissimo a sedersi su una panchina del Milan abbiamo modo di entrare in questa cosa no no certo però siccome stavamo esaminando la situazione certo che queste cose come arrivano a noi credo che arrivino anche allo staff tecnico del Milan alla squadra eccetera quindi in che condizioni giocherà è vero ci può essere un effetto contrario e magari fanno la partita della vita non lo so non lo so quanto in teoria possono farla e quanto siano attaccati a quest'allenatore perché mi dicono anche che da parte dei giocatori ci sono delle perplessità nel senso che non riescono tanto a comprendere quello che devono fare e il messaggio tattico che vuole trasmettere con sé che vuole trasmettere